Amici buongiorno, stamattina si parte con il brasato, al timo, con profumo di libù. Ogni giorno Dalle ore 7 Con una sola missione Trasferirvi la nostra passione Un picchio velocissimo, fegato, trippa, insalata di pollo, la fracosta, il brasato col pomodorino giallo, il nostro spirito di carne bianca, la tagliata con rucola e pomodorino, il nostro colpettone ed eccolo qua, finalmente ritorna il nostro cuscuzio. Il nostro cruccio, la nostra preoccupazione, che fina fatta Vincenzone! Grazie a tutti!